presentati Todor Radonich Edoardo Fontana soprannome nel gruppo di base Tosho però poi ci stanno Tosciazzo Tosciolone eccetera eccetera allora i soprannomi prima di arrivare qui erano due fondamentalmente Jimmy o Edo arrivato qui il capitano mi ha soprannominato prima Under 41 e poi Cancelletto 31 Cancelletto quindi sconosciuto quindi qui in questo gruppo ne ho altri due che sono questi appunto Dici in che ruolo giochi? Gioco da quattro cioè ala grande Allora sono un 2 e 3 quindi una guardiala ma diciamo posso giocare sia a 2 che 3 che 4 dai Numero di maglia? 23 Il 41 Spiegaci il perché Perché è la data quando mi sono sposato Allora è stato il secondo numero in realtà che ho avuto sin da quando ho iniziato a giocare a basket quando avevo 6 anni inizialmente avevo il 10 poi cambiando società mi hanno dato il 41 e ho ottenuto quello fino ad ora appunto Se ti dico Edoardo Fontana? Dico che lui è the best Fontaine per me è un ragazzo bravissimo, onesto, sempre col sorriso è un piacere giocarci con lui quest'anno Io contro lui ci ho già giocato tempo fa e sapevo che era molto forte e diciamo che la fortuna è che ce l'abbiamo in squadra quest'anno invece di trovarcelo contro Se ti dico Todor Radonic? Tosho dai, lo chiamiamo Tosho Allora posso dire intanto che è un ragazzo eccezionale è simpaticissimo, è un ragazzo tranquillissimo è bello passare del tempo con lui perché ti diverti, puoi parlare di tutto come giocatore lo conoscete sicuramente meglio di me è un buonissimo giocatore, ha tanti doti tecniche, può giocare in più ruoli sta facendo una stagione fantastica da quando sono arrivato io poi diciamo che ha sbagliato pochissimo quindi spero continui così e niente Il mio motto diciamo se non inizi non lo finirai mai Il mio motto non ho un motto diciamo di base ecco possiamo dire vivi e lascia vivere dai molto filosofico Prima di entrare in campo Beh io non ho dei riti specifici però l'unica cosa che faccio per me mi faccio una piccola preghiera quando ci sta all'ino nazionale e basta Non ho un rito fisso Diciamo che però i calzini sono sempre gli stessi durante le partite Almeno in anno in anno li cambio ma dopo che appunto ho usato il primo uso sempre quello e anche gli scaldamuscoli sono sempre uguali appunto La tua squadra del cuore Allora la squadra di palacanestro Partisan e invece di calcio la Lazio Allora come palacanestro ovviamente tifo Brindisi Vengo da Brindisi e sono cresciuto appunto in una città che vive di palacanestro ed è la mia squadra diciamo Come calcio tifo Inter Meglio l'Eurolega o l'NBA? Beh per il tipo di palacanestro che piace a me diciamo Eurolega Anche se diciamo le partite di NBA me le guardo spesso e volentieri anche perché diciamo è molto più spettacolare Ci stanno più schiacciate, triple e pazzie diciamo Sicuramente sono due modi di giocare completamente diversi Io preferisco l'Eurolega perché quello secondo me è il basket vero di più altissimo livello L'NBA è un gioco molto più fisico dove vedi atleti spaventosi ma che magari tende di più ad essere spettacolare Questo ovviamente durante la regular season Poi per quanto riguarda i playoff vedi anche lì un basket veramente del miglior livello al mondo ovviamente Chi è il tuo atleta preferito? Beh il mio idolo è Dejan Bodiroga Infatti prima l'anno scorso ho scelto il numero 10 a Siena perché comunque perché lui era il mio idolo quindi volevo portare anch'io quel numero quindi Dejan Bodiroga Come atleta preferito Lebron James dai Per tutta una serie di motivi sono cresciuto guardando lui mi piace la sua voglia di migliorare sempre il suo dominio in campo incontrastato Chi è il più bello tra i due? Beh diciamo che siamo simili dai che ci somigliamo un po' però io sono pizzico 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 più bello dai Questa è una bella sfida dai però vinco di un punto io dai Dici chi è per te il più sexy della squadra? Beh per me sicuramente Francesco Fratto perché lui ha il suo fascino per me è lui È il più sexy della squadra il capitano il capitano Fratto Francesco c'è il suo fascino Il più preciso? Sì sicuramente è Merletto lui è il precisino e infatti a me piace sta cosa perché spesso lo faccio rosicare perché gli sposto gli equilibri e queste cose qua specialmente in avamento mamma mia mi diverto un sacco mamma mia quanto lo massacro a lui mi diverto perché lui poi se la prende giocando capito? Però massacro c'è il massacro Il più preciso? Forse Merlo Merlo E il più spendacione? Sì secondo me Pauline anche perché diciamo ha cambiato sette paia di scarpe in due mesi quindi lui Ah il più spendacione senza ombre di dubbio Pauline Francesco soprattutto per le scarpe amante delle scarpe da basket collezionista possiamo dire Genere musicale preferito? Diciamo che io prima ascoltavo molto la musica rap però adesso ho cambiato un po' generi cioè mi piace tanto anche la musica italiana tipo Rino Gaetano Lucio Battisti è il mio preferito però diciamo anche Giovanotti Cesare Cremonini questo qua diciamo Allora la musica mi piace un po' tutta ma vado pazzo per la musica italiana degli anni 80 e degli anni 90 Film preferito? Allora il mio film preferito è Joker uscito da due mesi tipo Film preferito? Non lo so è difficile questa domanda Cado dalle nubi dai che è Cozzalone mi fa ridere quindi quello Il tuo giocatore NBA preferito? Il mio giocatore preferito NBA era Paul Pierce lui mi piace moltissimo come gioca e diciamo che mi ispiro tanto ai suoi movimenti e alle sue giocate che faceva diciamo negli anni precedenti abbiamo già detto James anche se mi piace anche tantissimo Kevin Durant E quello di Eurolega? Allora era Bodiroga in questo momento Milos Teodosic e Virtus Borja non sta facendo Eurolega Yes e quindi da capo da capo da capo allora era Bodiroga e adesso Mitzov come Eurolega Shane Larkin sicuramente dall'anno scorso da un paio d'anni eseguo di più diciamo più spesso l'Eurolega è un giocatore fenomenale Tiramisù o crema catalana? Tiramisù tutta la vita specialmente se sono tre teglie così piene me le mangio tutte me le mangio Tiramisù Tiramisù Albergo o campeggio? Campeggio Albergo albergo posso dire una volta sola perché la devo dire due volte Viaggio ai confini del mondo chi porteresti con te? Mia moglie La mia famiglia porterei porterei mia mamma mia sorella e mio padre E tra i tuoi compagni di squadra? Beh non ho preferenze però li porterei tutti quanti diciamo un viaggio di gruppo Per un viaggio così ma li porterei tutti dai li porterei un po' tutti il viaggio ai confini del mondo diciamo che il più pazzo sarebbe Mau ma quello mi farebbe forse divertire di più ma porterei tutti Se ti dico Tommaso Bruno? Tomi è un grande diciamo l'unica cosa di Tommi è quando in allumento si mette a fare arbitro fischia sempre per la squadra avversaria quindi ogni tanto mi fa impazzire però non gli dico mai niente Ah Tommi è un super ci troviamo vabbè oltre che ad allenamento preanziamo e ceniamo spesso insieme è un bravissimo un bravissimo ragazzo un coach preparato e niente questo ciao Tommi se ti dico Leonardo Pacini Pacio è un bravissimo ragazzo lui è cresciuto tantissimo dall'inizio dell'anno diciamo che in partite non si vede perché non sta giocando tanto però in allamento è cresciuto un sacco e diciamo che secondo me se continua così potrà fare diciamo grandi cose Leo è un bravissimo ragazzo è un ragazzo con cui diciamo è bello stare anche se è piccolo è un ragazzo rispettoso ed educatissimo è è un ragazzo che ha talento e secondo me ha una buona e bella strada davanti a livello gestistico e Paolo Fantini? Ah Paolone Paolone è simpaticissimo sempre sorridente disponibile e per qualsiasi necessità ci sta sempre Ah Paul a parte una delle prime persone che ho sentito e che ho visto arrivando qui l'ho stressato parecchie volte per qualsiasi necessità è sempre stato super disponibile e niente c'è sempre un sorriso è una parola simpatica per tutto dai Preferisci uno sfondamento da Nick Petrucci o da Gigi Cianci? Eh diciamo da Gigi perché poi dopo comincerei subito a prenderlo in giro quindi lui impazzirebbe io godrei il triplo Subire uno sfondamento da Gigi perché accuserebbe tantissimo e io godrei come un matto si può dire godrei no? Giusto? Ok Auto o moto? Auto 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 due volte l'ho detto Il tuo sogno nel cassetto? Beh il mio sogno diciamo che ho sempre avuto e sto cercando di realizzare è avere una famiglia e diciamo vivere in una campagna con la casa mia orto e queste cose qua Il mio sogno nel cassetto non ne ho uno in particolare mi piacerebbe tanto viaggiare e conoscere più posti possibili Film romantico o film horror? Film horror Eh qui allora il genere di film che mi piace di più è il thriller però se dovessi scegliere tra questi due il film romantico magari in una determinata occasione mentre il film horror così con gli amici ci scherzi ci ridi però poi non dormo la notte quindi film romantico Convinci Coach Panza ad affidarti il tiro della vittoria Lolo fammi tirare che poi c'è la vacanza in Montenegro pagata dai bella questa bella questa è Coach dammi questo tiro e stai tranquillo che la metto dentro Hai tatuaggi? Se sì qual è il più importante? Sì ho quattro tatuaggi diciamo per me tutti quanti sono importanti In realtà ho solo due tatuaggi uno l'ho fatto con mia sorella cane e gatto perché appunto noi da più piccoli abbiamo litigato e bisticciato diciamo spesso e quindi cane e gatto ci rappresenta pieno e l'altro con uno dei miei migliori amici che è un tatuaggio abbiamo fatto Ibiza insieme una stella marina che fa abbastanza rivedibile ecco possiamo dire fa schiva abbastanza rivedibile però tutti e due hanno un significato speciale perché sono collegate a due persone a cui voglio bene Federer o Djokovic Djokovic quello che quell'altro non lo posso vedere nel senso elegante è tutto però tutti ti fanno per lui nessuno per Djokovic infatti sono Djokovic Federer Federer l'eleganza di Federer è in contrastata Valentino Rossi o Mark Marquez Valentino Rossi vabbè qui giochiamo in casa Valentino Rossi Cristiano Ronaldo o Lionel Messi tutti e due grandissimi campioni io sceglierei Ronaldo perché con tanto lavoro e allenamento è riuscito a ottenere tutti quei risultati quindi diciamo che lui è un vero esempio per noi giocatori di tutti i sport e invece Messi è diciamo un talento di natura quindi lui diciamo che è stato più fortunato degli altri ma qui allora Cristiano Ronaldo ora è alla Juve quindi non lo so nel senso che appunto contro l'Inter che è la mia squadra ma come atleti mi piacciono tutti e due forse preferisco Messi semplicemente perché ho più un talento naturale quindi Messi Finale di Champions o finale NBA? Finale di Champions se gioco alla Lazio finale NBA solo se gioco alla Lazio o alla Champions me la guardo altrimenti finale NBA dai facile questa finale NBA La tua pizza preferita? Mi piace tanto la contadina è composta da diciamo base di margherita ci sta prosciutto cotto pacchini e un po' di mozzarella no no non è vero non c'è la mozzarella base di margherita prosciutto cotto e pacchini Scamorso e spec anche se pure la diavola non mi dispiace Il tuo gelato preferito? Io sono molto goloso quindi mi piacciono tutte le cose con tanto zucchero Nutella ci sta anche se la gelateria è buona che conosco e se fanno bene il pistacchio allora lo prendo volentieri Ah gelato qualsiasi cosa riguardi Nutella Nutella è fior di latte dai Sushi o bistecca? Diciamo sushi mi piace tanto però preferisco di più la bistecca Questa è una bella sfida perché allora ho iniziato a mangiare il sushi poco tempo fa forse due tre anni fa all'inizio ero molto scettico e diciamo che adesso è difficile farne a meno quindi diciamo sushi anche se la carne è la carne mi è messo in difficoltà qui sushi però Dicci come ti vedi tra dieci anni tra dieci anni spero sempre di ottenere di realizzare il mio sogno della famiglia spero di fare grandi cose con la palacanestro e questo tra dieci anni quindi trentadue anni ma magari lo so in una relazione stabile non lo so troppo presto per dire ora come ora con questa testa troppo presto per dire con dei figli magari quindi mi ci vedo non lo so magari con una casa mia giocando ancora a basket in una relazione stabile perché a 32 anni bisogna mettere la testa a posto avremo già dato Toscio vorresti giocare ancora con Edoardo? Certamente con tanto piacere e tu Edo vorresti giocare ancora con Toscio? Sicuramente come ho già detto prima ho evidenziato tutti i pregi di Toscio quindi assolutamente sì Abbiamo terminato e vi lasciamo andare ma non prima di aver salutato i nostri tifosi Allora ciao a tutti grazie mille per il sostegno che ci date per noi siete molto importanti continuate a venire così in vai si rifà vado? Allora un saluto ai nostri tifosi grazie per il sostegno che ci date ogni partita e tutti i giorni e continuate a venire alle nostre partite così numerose perché ci date una grande mano per ottenere delle vittorie ciao a tutti un grande saluto a tutti i tifosi spero che continuate ma non ho dubbi su questo a sostenerci sempre così in così tanti vi mangio vabbè vi mangio sto parlando da troppo tempo vi mando un abbraccione forza Janus ciao a tutti ciao a tutti